Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo deathmatch parkour Signori questo qua è un parkour nob parkour Quindi non so cosa bisogna fare Ok uno ha abbandonato la sessione Ah no siamo sempre sempre Non so chi è stato Perfetto Allora signori direi di partire Immediatamente Andiamo di fare tutto bene Ok Perfetto questo qua è caduto Andiamo 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 raga Tutti contro tutti ho messo E signori Prima di questo parkour già ne ho fatto un altro Sempre questo Solo che stavamo uno contro uno Perché uno voleva fare Una specie di sfida Solo che l'ho persa Perché non riuscivo a farlo Quindi oggi siamo qui Ragazzi è da tanto tempo che ho completo un parkour Insieme a voi Quindi direi di iniziare subito Ieri ho fatto un parkour però mamma mia Motivo sempre Non riuscivo a farlo E quindi ho scelto di non caricarlo su youtube Perché Non vi facevo mostrare niente Alla fin fine Ok Perfetto Ma qua Qua non sono Ok Andiamo lì qua Attenzione Mamma mia vita rossa Vita rossa aiuto Mamma mia Attenzione Qua così Perfetto Andiamo con calma Dai che se arriviamo a levarmi In questo momento Ragazzi C'è qualcosa di favoloso Oddio sto cadendo Andiamo 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 Ok Perfetto Aspettiamo un poco così si ricarica la vita Perfetto Fatto Andiamo Ok No qua con calma Oddio Dai Non ci credo raga Cioè ma vi rendete conto Guardate qua che seccia che tengo Cosa è successo Ragazzi era arrivato con un piccolo bug Là Non ci credo Solo che io Saltando nel bus Alla fine ha saltato là Non ci credo No che cosa era successo Mamma mia Perché ragazzi Ho prenduto tante volte Quindi poi alla fine il salto si era attivato Direttamente lì Che seccia Oh ragazzi Ci sono riuscito Sono passati dieci minuti Un altro po' Finalmente ragazzi Mamma mia A sclerare come un pazzo stavo Ai che palle Non riesco a salire Ok Andiamo sopra Perfetto Qua andiamo di nuovo sopra Ancora perfetto Ma qua io devo saltare Quindi direi Scendere giù Di salire qua sopra E di saltare Ok Vai andiamo Oh Pisa Ma Equilibrio Andiamo 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 Ok Ok Ma qua raga Non so se cado Meglio Meglio andare più dietro Possibile Mamma mia Raga Sto pezzo Sembra un po' Difficile Vai Ok Ok Qua dobbiamo saltare Ok Andiamo qua sotto Mamma mia Ok Ci siamo quasi Signori Perfetto 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 Ragazzi Mamma mia Da un sacco di tempo Che non faccio un bel parkour Magari che lo completo Ok Ah Perché la sta la salute Secondo me perché il bug è stato messo apposta Perché lì non ci sono armi Le armi stanno Di sopra Minchia Ci hanno ancora un sacco di tempo però eh Salta Ok No Qua Non so come andare Ok Oh mamma Raga Vi giuro Non ci stavo girando Andiamo 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 Opla Opla Perché dico così Perché Ok Andiamo di qua Ok Perfetto Ora direi di attivare la modalità furtiva Che là stavo rischiamo di cadere Per i fail sempre che faccio Ok Anche se già c'è stato Ma non so Ci saranno altri Andiamo 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 Ragazzi Vorrei andare veloce Non sapete come vorrei andare veloce Però Mancano 6 minuti Ci sto solo io Quindi Vorrei vincere Ok Qua sto andando bene Sì Ok Non dovrei cadere Ok Ma qua Ok Ok ragazzi Mamma mia 6 minuti e 10 6 minuti e 10 Scela Possiamo fare Dai Avanti Ok Facciamo così Ci dobbiamo mettere bene Stavolta Ok Perfetto Ufff Mamma mia No 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 Ragazzi Io già sto Qua secondo me ci sarà il fail Ok Facciamo così Surtiva Cioè Tanica volevo dire Ok Io Non li vorrei prendere Ok Ragazzi ma quanto manca Mannaggia Sto pieno d'ansia Andiamo 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 Ok Qua bisogna stare bene Cioè bisogna fare tutto bene Ok Mamma mia Ok Queste cose qua mi fanno paura Ho paura di cadere Ho paura più che altro che il personaggio faccia qualche scemaria Tipo capriola A queste cose così Vita Mo Giù penso Giù Cioè giù qua nel container Andiamo ragazzi Mamma mia Mo Bisogna saltare Non lo so ragazzi ma Sì Partiamo va Boom E siamo arrivati ragazzi Siamo arrivati dopo tantissimo tempo Dopo tantissimi parkour Finalmente le armi Maddo che bella soddisfazione Era 4 parkour consecutivi Forse che non facevo Che non arrivavo alle armi Mamma mia Guardate qua che bello ragazzi Guardate qua Mamma mia signori Revolver Bella Guardate qua Bellissimo Bellissimo Signori direi di aspettare Dove sponano È giù nel palazzo Giù quindi è là Direi che abbiamo finito ragazzi Ci suicidiamo Semplicemente Anche se Potrei andare Volevo provare ad andare sulle scritte Però vabbè Mamma mia signori Un motivo buono per suicidarsi Che finalmente C'è stato Si è buggato tutto Si era buggato Vai mamma mia Ed ecco qua Mamma mia Oh guardate che pistola Che pistolone Del fucile Soprattutto Eccolo là signori Boom Boom Ma non uccide tanto bene Non mi piace tanto Allora carabina speciale Da quanto tempo La carabina speciale Ragazzi Aia Oh A scemo Oh Due in un colpo solo Mamma mia signori Da quanto tempo Eh Volevi Volevi Bomma È un Chiglia Volevi Boom No ragazzi Sto là c'è una strage E Vediamo un poco Ok Eh eh Ok Aiuto Aiuto Si sono coalizzati Uno l'ho ucciso No Dai Era lontano Tre metri Ragazzi Comunque Abbiamo vinto Finalmente Un bel parkour Eccolo qua Signori L'abbiamo preso Tanto stava Un altro là Da qualche parte Però Abbiamo vinto Finalmente Però intanto Mi continuano a uscire Salvataggio Non riuscito Speriamo che a meno Mi salvi i soldi Soprattutto i soldi Ragazzi 17.000 Se facevo 10.000 Se commettevo 10.000 Su di me Sì Vedi quanti Be' soldi Che mi portavo a casa Va bene Signori mi raccomando Questo è il link Il coso della crew I versetti gommosi Mi raccomando Entrate Fate richiesta Ma scusate ragazzi Mi stavo Stavo vedendo un rutto Ecco Lasciate un bel like Arriviamo a 100 like Per questo video Mi raccomando ragazzi Perché finalmente Ce n'ho riuscito A arrivare alle armi Che Non riuscivo Ad arrivare Da un sacco di tempo Chissà quanti volte l'ho detto E noi ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi Ciao Ciao